Una ciclabile lunga 20 chilometri per incentivare la mobilità sostenibile e mettere in sicurezza chi viaggia a piedi o in bicicletta in una strada molto trafficata. È il progetto presentato martedì mattina che vede come capofila al comune di Belgioioso. Il progetto della pista ciclabile sulla strada provinciale 235 nasce dalla volontà di un gruppo di sindaci del territorio. Oltre a Belgioioso sono compresi anche i comuni limitrofi di Corteolone e Genzone, Linarolo, Valle Salimbene, Albuzzano e Torre dei Negri. La ciclabile entrerebbe direttamente a Pavia attraverso Viale Cremona e Viale Partigiani. Ecco perché è indispensabile anche l'apporto del comune capoluogo, a cui il sindaco di Belgioioso Fabio Zucca rivolge il suo pensiero. È una pista ciclabile di circa 20 chilometri che entrerà direttamente a Pavia, Viale Cremona Viale Partigiani e che credo possa aiutare anche la città di Pavia. È una strada che vede il passaggio di migliaia di camion autoarticolati al giorno e quindi la mobilità diciamo debole, la mobilità però anche ecologica, quella dei ciclisti, quella dei monopattini, non può condividere una sede stradale con appunto migliaia e migliaia di autoarticolati e mezzi pesanti, oltre alle automobili. E caccia allora i fondi da individuare attraverso bandi regionali ed europei per concretizzare un'opera molto importante per la sicurezza del territorio. È un'opera particolarmente importante perché il costo previsto si aggira tra i 3 e i 4 milioni di euro, bisognerà poi decidere perché è anche punti particolarmente complessi perché ci sono dei fossi a lato delle strade, quindi c'è un'ipotesi di costruire una pista ciclabile al di sopra dei fossi, una specie di palafitta in cui i ciclisti possono percorrere in sicurezza oppure di tombinare questi fossi. Un grande grazie a tutti gli altri sindaci perché ancora una volta i sindaci presenti sul territorio facciano una battuta, dimostrano di essere più avanti della provincia e della regione e di chiunque altro nella sensibilità e nella voglia di fare le cose e farle bene per i propri cittadini e non solo.